Il parco anche negli anni scorsi in questo periodo viene vissuto come polmone per passare delle ore al fresco, quindi noi cerchiamo di mantenerlo e i cittadini lo frequentano e quindi cerchiamo sempre di mantenerlo più pulito. Sulla questione pulizia e sicurezza, con l'inserimento delle telecamere che abbiamo attivato da qualche mese, abbiamo visto che soprattutto nelle zone perimetrali il fattore di abbandono di rifiuto è diminuito. Su quello all'interno del parco i cestini ci sono, vengono utilizzati male, quindi invitiamo anche i cittadini a utilizzarli in maniera corretta e consapevole. Restano anche le lamentele per i cani che corrono liberi al PAM. Ogni anno si rappresenta il problema, noi abbiamo attivato delle convenzioni, abbiamo coinvolto le guardie zoofile della provincia di Varese, sia quelle di Milano, abbiamo segnalato i casi che ci vengono segnalati alle polizie municipali competenti per andare a cercare di sanzionare chi lascia in giro e abbandona i cani e li tiene senza guinzaglio. Ricordiamo che i cani all'interno del parco vanno sempre tenuti tutti di grande e di piccola taglia al guinzaglio.